Ricordati di cliccare su Mi piace, iscriviti e attiva la campanella. Silvia e Paola Zani, le figlie dell'ex vigilessa Laura Ziliani trovata morta a Temu, hanno confessato l'omicidio della madre e svelato il movente dietro al gesto. Le due donne sono in carcere assieme al fidanzato di Paola, Mirto Milani. I dettagli emergono dai verbali della confessione. Prima le hanno dato dei maffin con benzodiazepine, ovvero tranquillanti, poi è stata Silvia a passare all'azione, ero decisa. Sono entrata nella camera da letto di mia madre, ricordo di averle messo le mani attorno al collo, Paola la teneva ferma con il suo peso. Laura Ziliani ha iniziato a rantolare ed è quindi intervenuto il fidanzato, Mirto si è accorto che non stava andando come previsto ed è entrato in camera. Ha messo lui le mani sul collo di mia mamma. I tre, poi, hanno caricato il corpo in macchina. Ecco il movente dietro all'omicidio. Ancor più agghiacciante è la confessione sui motivi che hanno spinto le due figlie ad uccidere Laura Ziliani. Eravamo disperati per i tentativi di mia madre di ucciderci e non sapevamo cosa fare. Hanno dichiarato secondo i verbali diffusi. Stando a quanto detto dalla figlia Silvia Zani, la madre ex vigilessa si sentiva bloccata con tre figlie di cui una disabile e l'idea che avevamo era che voleva liberarsi di noi. Per questo, avrebbero iniziato a pensare ad un modo per risolvere il problema. La donna ha riferito anche di presunti tentativi operati dalla madre per uccidere le figlie. Avrebbe messo loro la candeggina nel latte, quindi provato a dare loro sostanze caustiche nel sale. Il nostro incubo era quello di essere avvelenati da Laura. Ha dichiarato Mirto Milani. Ma allora, perché non hanno denunciato la madre? Lo stesso fidanzato, il primo a confessare e grazie al quale è stato svelato l'orrore dietro alla scomparsa e alla morte della donna, ha poi spiegato che non hanno voluto denunciare questi presunti tentativi di avvelenamento. Dal nostro punto di vista, se i carabinieri avessero scoperto che Laura voleva farci del male, poi sarebbero per deduzione risaliti a noi. Ha fatto mettere a verbale l'uomo, arrestato con Silvia e Paola con l'accusa di omicidio. I tre sono in carcere dal 24 settembre 2021 di un anno fa e hanno confessato solo dopo otto mesi di detenzione.